In archivio anche la seconda giornata di Coppa Campania per le società di eccellenza e promozione. Una seconda giornata che ha visto l'esordio stagionale per alcune società elpine, tra le quali la Virtus Avellino che ha pareggiato contro lo Stasia Soccer, l'FC Avellino che alla prima uscita ufficiale, dopo la nuova affiliazione, ha portato a casa il bottino pieno battendo per 3-2 la Giffonese, ed il Serino che si è dovuto arrendere alla Sanseverinese perdendo in casa per 3-1. Chi sorride invece è il Grotta. La formazione giallorussa vincendo per 3-0 in casa del Siconolfi ha staccato il tagliando valido per l'accesso al secondo turno, avendo già vinto alla prima giornata contro il Solovra per 3-2. La sorpresa della giornata è stata la vittoria del comprensorio miscano contro le Grianese. La squadra del tecnico Marinaccio non partiva sicuramente con i favori del pronostico, ma è riuscita a battere la formazione calorese piazzandosi al primo posto nel girone 26. Esordio vittorioso anche per la neopromossa Felice Scandone Montella, che ha battuto con il punteggio di 3-2 i più quotati avversari dello Sporting Accadia. Infine, pareggio tra San Martino, Valle Caudina e Vissariano, con la cobbagine uffitana che è riuscita a mantenere l'imbattibilità. Il prossimo turno di Coppa è previsto per la prossima settimana, ora spazio all'inizio dei campionati.